E come un tatuaggio ti resterai impressa sulla faccia E' onesto? O è solo brutale? E' onesto? E' anche brutale, certo? Il che a volte fa parte di essere onesto Perché tante persone sono brutali Ma non onesti Perché tante persone... Grazie a tutti Grazie a tutti Alla fine tu non conti, è allora che acquisterai il carattere, perché l'onestà emergerà dentro di te, e come un tatuaggio ti resterai impressa sulla faccia. E come un tatuaggio ti resterai impressa sulla faccia. E come un tatuaggio ti resterai impressa sulla faccia.